L'Italia on the road è arrivata in Campania, stiamo per scoprire un luogo insolito che vi sorprenderà. Si chiamano trille, si chiamano con tre decce, poi facciamo lo trilluzzo con uno riscita e si chiama trilluzzo. Benvenuti in Irpinia, una terra ancora da scoprire, ricca di piccoli tesori. La leggenda vuole che Benevento sia stata fondata da Diomette. La leggenda vuole che Benevento sia stata fondata da Diomette. Le tre C del caffè in questa zona. Come cazze cose.